E ciak? Grazie Babudoyo Bomba ragazzi, bomba ragazzi, benvenuti in un nuovo video Quest'anno per la prima volta sono stato al Rimini Wellness È stata un'esperienza molto bella perché è stata appunto la prima volta in vita mia Dice ma il Rimini Wellness è stato il botto di tempo fa perché lo fai uscire ora il video? Perché l'hanno fatto uscire tutti subito Io aspettavo perché mi è girato il calo in questo modo E faccio un po' quello che voglio no? Mi sembra giusto quindi godetevi questo video è stato molto divertente Vedrete che io mi diverto e tutti si divertono Bomba ragazzi, sono con Ambrottola, siamo al Rimini Wellness Io non ci sono mai stato, la prima volta che vengo qui sarò allo stand di Prozzi Sfigata pazzesca perché? Perché il fitness ha sempre fatto parte della mia vita Ma non sono mai stato a una piere che lo trattasse Quindi per me è un po' come andare per la prima volta a Luca Comics Non lo so, è una figata, sono all'ingresso, sto aspettando i pass E alle 11, ovvero tra un quarto d'ora sarò allo stand di Prozzi per un paio d'ore sul palco Inquadriamo anche Ambra che è bella Poi oggi insomma farò un giro a cazzeggio Sono emozionato Allora ragazzi sono allo stand di Prozzi Sì, sì, guardate Prozzi sono qui, Merlux 10 Intanto dietro di me qui allo stand stanno facendo le gare di trazioni Mentre Ambra scrive sulla sua nuova borraccia Prozzi Vediamo, facciamoci un giretto allo stand Vedete? Allora Qui stanno facendo le gare di trazioni No, sto facendo il vlog che poi va sul canale Stanno facendo le gare di trazione Adesso arrivano da Palermo a fare le gare di trazioni Guarda la mia mamma anch'io Allora la cosa figa, qual è ragazzi? La cosa figa è questa, guardate C'è, sono sul tabellone, capito no? Oh superman, c'è superman qui con me Grandissimi Bella ragazzi C'è il codice scopo Prozzi Merlux 10 Merlux 10 Ciao bestia, come no? Allora, mi vieni per chiedere una foto Grande Grazie a me, è un piacere Ovviamente i polpacci ce li hanno più grandi le donne Che gli uomini, ovviamente anche di me, eh Non mi esimo È stato gara di trazioni Ma hanno 40 secondi Per fare più trazioni così Vedi? Non basta essere grossi Pure i secchi possono vincere Allora, adesso farò una gara di trazioni Mi sentite? Non troppo, fratello Conosci un nome di commissione Allora, adesso farò una gara di trovare operazioni andata diciamo che col tendine del gomito che non mi ha permesso di farle bene infatti erano fatte un po male diciamo che non avrebbe dovuto fare però è stato divertente c'è bella gente a questo rimini wellness tranne qualcuno non c'è proprio tanta bella gente ho trovato un barattolo un barattolo di proteine ho trovato ascolta ma io ho visto che ti tratti benissimo ma in che cazzo di tu sei andato è futuristico ma tu ma io mica so c'è sembra stile di guarancia meccanica quella della casa si è tutto automatico ah ciao guardate la grossezza l'enorme la passellanza che piena pienezza devo cambiare l'obiettivo non c'è no esatto esatto oh ma ragazzi siamo a pranzo io ovviamente sto pulito un paletto di pollo verdure due patate e poi c'è questa boffa della c'è della gente enorme sono un secco di come che stai mangiando? è una chema di parmigiano e miele da caccia il miele da caccia ricordiamo è quello che serve a prendere i fagiani perché appunto è la caccia e bomba ragazzi si chiude il blog del primo giorno di Remini Wellness qui allo stand prozis codice sconto Merlutz 10 secondo giorno di fiera abbiamo una sfida epocale Giovanni Fois contro Sim 1 Workout ma no sei proprio uno spammer ma hai chiesto te eh che vuoi? come ti chiami tu Alan? come ti ha chiamato tua madre? ho cambiato nome Simone ora andiamo a vedere la sfida di trazioni tra Giovanni Fois e Sim 1 Workout andiamo a vedere la sfida di C'è da dire una cosa però Quando ti fai fatto? Ne hai fatta una meno di più Se questo video vi è piaciuto Se questo video vi è piaciuto Non c'è una chiusa La faccio adesso Perché mi si è cancellata la memory card Vi invito ad iscrivervi al canale A condividere questo video E mi raccomando Cliccate sulla campanella Per rimanere aggiornati sui video E di farlo vedere A tutti i vostri zii, cugini Per esempio Con barri e nipoti E ovviamente Seguirmi su tutti i miei social Dove pubblico un sacco di robe belle Molto belline Molto fantastiche Yeah 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 Fantasticosi non saffiettanti Noi ci vediamo al prossimo vlog Dove non so cosa dirò Ma lo farò